Tante storie di riscatto al centro della prima giornata del WeFree Days e la due giorni sulla prevenzione organizzata dalla comunità di San Patrignano a cui hanno partecipato oltre 2000 studenti da tutta Italia. Storie vere di vita di ragazze e ragazzi che hanno attraversato situazioni difficili, conflitti familiari e solitudine, ma soprattutto storie di fallimenti che possono trasformarsi in lezioni di vita. Come l'esperienza di Diego e Federica che dalle province di Perugia e dal Golfo di Policastro sono arrivati alla tossicodipendenza attraverso percorsi diversi per poi ritrovarsi entrambi a riscoprire l'affetto dei genitori. Secondo la testimonianza di Federico Samadena, autore del libro Fotogrammi stupefacenti e preside, bisogna insegnare che gli errori non sono una malattia inguaribile, gli errori sono una componente essenziale del proprio percorso di crescita e quindi non bisogna averne paura perché se io mi guardo indietro ho imparato essenzialmente molto di più dei miei errori che non dalle cose che ho fatto giusta. Nella giornata di oggi lo spettacolo messo in scena era ragazzi per male, mentre Capelli Libertà, One Planet One Future, Sano Divertimento, Lascia il Segno e Amici a Quattro Zampe sono solo alcuni tra gli workshop interattivi a cui hanno potuto partecipare gli studenti. Presenti alla giornata anche la Polizia di Stato che ha realizzato attività di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria. Tema di rilievo quest'anno è anche il riciclo e la cura dell'ambiente oltre, come sempre, alla formazione e all'educazione di giovani e adulti. Una testimonianza di forza è quella di Alberto Meroni, autore del libro Scoprirsi Down, che raccomanda ai giovani E soprattutto lo spettacolo ragazzi per male a mettere in luce l'importanza di quell'affetto e amore che sono fondamentali per i bambini che poi da adulti non siamo più in grado di chiedere. Un essere umano avrebbe bisogno di sette abbracci al giorno, afferma dal palco Francesco Apolloni, regista e attore che ha condotto lo spettacolo e invita ragazzi in platea ad alzarsi e abbracciarsi. Poi un'enorme palla gonfiabile viene lanciata tra gli studenti invitandoli a condurla insieme con le mani verso il palco. Grande metafora del mondo che vorremmo e che solo grazie agli altri possiamo realizzare.